Eccomi di, secondo la teoria queer, ci sono casi dove l'identità di genere è considerata non binaria. Ci sono varie classificazioni come gender fluid, agender, no gender, bigender, genere neutro, di cui io poco ci capisco. In comune queste categorie hanno il fatto che vogliano superare la dicotomia uomo-donna. In particolare il gender fluid è quella che più assomiglia a ciò che preoccupa coloro che parlano di teoria gender. Perché i gender fluid dichiarano di avere un'identità di genere non perfettamente definita e che a tratti possa essere considerata maschile? A tratti femminile, o mista, anche a seconda dei momenti. A volte invece quelli che avevano paura del gender parlavano anche del genere neutro, di quelli che non si identificano in nessuno dei due generi. Questo però non significa che vogliano indottrinare i nostri figli a scegliere la propria identità di genere. E che i generi e gli orientamenti sessuali tradizionali siano visti come una gabbia. Ci sono effettivamente esponenti del movimento LGBTQare che credono che noi siamo tutti bisessuali o pansessuali e di genere non binario e fluido. E che la società cat bigotta ci abbia indottrinati e resi tutti o quasi etero e cisgender. E che l'eterosessualità sia una gabbia che genera pregiudizi, oppure che avere un'identità di genere che coincide col sesso biologico. Abbia origine nell'ignoranza e nel pregiudizio o che porti ad ignoranza e pregiudizi. Una volta il giorno di San Valentino trovai sui muri dei volantini che dicevano la coppia etero e monogamma crea pregiudizio e ignoranza. Anche io rosico parecchio il giorno di San Valentino, perché sono single da tanto tempo, e critico il lato consumista di quella festa, però non mi metto a fare il rosicone. In realtà è il vero messaggio che la comunità LGBT queer vuole dare che ognuno deve essere se stesso, uomo, donna, etero, gay, bisex, trans e queer. Spero di essere stato chiaro perché le stesse persone che sostengano la comunità LGBT queer dicono che il gender non esiste. Bisogna essere precisi quando si parla di questo argomento, non è che il gender non esiste. Bisogna dire che non è corretto parlare di teoria gender che bisogna parlare di teoria queer. Negare in toto la faccenda del gender significa negare l'esistenza di coloro che si identificano come gender fluido o gender queer. Anche perché la parola gender in inglese significa proprio genere e se si parla di gender fluido tu stai usando la parola gender. A proposito della faccenda del genere fluido o non binario, sono sorte delle questioni legate al fatto che nei documenti viene registrato il sesso. A differenza di come accade per esempio in America, dove viene registrato il genere. Fino a poco fa in Italia se non cambiavi sesso risultava uomo, non bastava che il genere sia quello opposto. Ma nel 2015 c'è stata una sentenza della Cassazione permette a far cambiare il sesso all'anagrafe ai trans non operati. Oppure c'è il problema dei suffissi di genere per il genere non binario. Per i trans bisogna comportarsi così. Se l'identità di genere è femminile bisogna usare i pronomi e i suffissi femminili. Lo stesso vale per l'identità di genere maschile. Ma se non è binaria che suffissi bisogna usare? C'è chi propone suffissi di genere neutro, cosa che alcune lingue permettono, ma non li tagliano. Così c'è chi propone di usare asterischi o simboli al posto dei suffissi. Su Facebook è possibile scegliere il genere che si vuole e il pronome che si preferisce, proprio per andare incontro a chi non è binario. Inoltre c'è anche la faccenda dei bagni per transessuali e per i genderqueer. Una delle soluzioni più pratiche è quella dei bagni unisex, che a prescindere dal problema del genere. Già sono presenti in vari luoghi pubblici, o bagni, o università, e via di seguito. Nell'altro video vi ho accennato al fatto che il filosofo aggelo-marxista Diego Fusaro parli male della cosiddetta teoria gender. Dato che questa teoria della teoria è uno dei cavalli di battaglia dei teorici del complotto, dei fanatici religiosi dell'estrema destra. Parlare di gender non può che metterti nelle condizioni di essere accusato di essere un reazionario o un retrogrado. Anche perché Fusaro non è semplicemente marcosista, ma è anche in parte di ispirazione geliana. Infatti sostiene il nazionalismo, la preservazione dell'identità, valori tradizionali come la famiglia. Anche se non ho capito cosa ne pensa delle famiglie gay, e la religione come verità assoluta. È facile scambiare Fusaro per un fascista, o un socialista nazionale, o un nazional bolshevico o un rosso bruno. Spesso quando si parla di gender si risponde dicendo che esistono gli studi di genere, che si occupano della condizione femminile dal punto di vista sociologico. In tv una conduttrice, parlando del suo libro, in sua assenza, lo ha accusato di essere sessista verso le donne. Visto che per lui il gender è sbagliato, dato che se la teoria gender non esiste in realtà l'unica cosa a cui si potesse riferire erano i gender studies. Fusaro su YouTube ha chiaramente espresso il fatto di essere d'accordo con quelle femministe che lottano per il riconoscimento degli stessi diritti e per la parità di genere. Lui crede che donne e uomo non sono uguali, hanno delle differenze biologiche e psicologiche, ma nessuno dei due è superiore all'altro. Inoltre in un altro video Fusaro è convinto che gli orientamenti sessuali sono infiniti, e che l'omosessualità è perfettamente naturale poiché esiste anche nel mondo animale. Lui è contro l'idea seconda cui il sesso biologico non conti nulla oppure che i due sessi siano intercambiabili o uguali. Crede che l'idea dell'unisex sia un'omologazione dei due sessi biologici. Quindi Fusaro farebbe meglio ad usare termini che evitino di essere freintesi, non è facile, però lui conosce la parola gender fluid? Sarebbe meglio usare quella parola piuttosto che teoria gender per evitare di essere accostato ai sessisti e agli omofobi. Nel prossimo video dirò la mia sul problema dell'identità di genere, cercando di sottolineare i punti critici e controversi del problema. A presto!